Questa è una splendida iniziativa che prende corpo grazie al comitato loanese, l'associazione che raduna le tante associazioni e tanti gruppi di Loano e insieme alla Croce Rossa Italiana si è potuto aprire questo point di predievi e chiunque potrà venire e al costo di 30 euro poter fare un tampone rapido per sapere se si è positivi o meno a questa malattia. Qui chiunque voglia togliersi il problema di sapere se in questo momento è positivo o meno alla malattia può saperlo. In più una parte di questo contributo verrà donato per situazioni sociali da parte della Croce Rossa.